Il cambiamento demografico è il grande megatrend dei nostri tempi, insieme mette il problema dell'invecchiamento della popolazione nei paesi occidentali, l'Italia e il Giappone, dove ormai non solo non si fanno più figli, ma dove l'età media aumenta sempre di più, il che significa dover immaginare un modo nuovo di occuparsi delle persone anziane. Il problema delle migrazioni di massa, abbiamo un continente, l'Africa, che nel 2050 triplicherà la sua popolazione e questo significherà grandi ondate migratorie verso l'Occidente. E poi il problema della natalità, che cosa succede quando hai delle aree del pianeta dove non si fanno più figli ed altre dove si fanno molti figli. Prima l'ONU aveva facile gioco a prevedere che la nostra popolazione terrestre sarebbe aumentata fino a 10 miliardi entro la fine del secolo, oggi questo rende tutto molto più complicato e richiede tutta una serie di costruzioni, di scenari, di policy da immaginare.